Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo nel percorso che ci porta dalla cripta di Santa Maria delle Grazie su verso la cella numero uno di Padre Pio. Oggi qui perché vogliamo leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive nel 1914. Aveva 27 anni, si trova a Pietrelcina, la sua Pietrelcina terra natale che lo accoglie in questo periodo particolare della sua vita dove purtroppo una strana malattia lo costringe a stare a casa con i suoi genitori come ci racconta queste immagini, queste foto che raccolgono un po' tutta la vita quotidiana di Pietrelcina, i suoi luoghi, la torretta, la casa del fratello Michele, poi i vari luoghi che lo hanno visto protagonista insieme al suo caro Don Salvatore Pannullo, la chiesa di Sant'Anna, il fonte battesimale dove è stato battezzato. Oggi qui perché vogliamo leggervi uno stralcio di una lettera che lui scrive da Pietrelcina il 10 luglio del 1914 e racconta quanto ho pregato il buon Gesù affinché mi manifestasse la tempesta che in questi giorni si va aggirando nel vostro spirito. Non so dirvelo a parole, questo vostro tenerissimo Gesù mi ha fatto sentire che non mi avrebbe già mai manifestato le vostre afflizioni presenti perché difficilmente avrei potuto reggermi a vita se queste mi venissero svelate. Solo Gesù mi ha fatto sentire il motivo in cui vi ha mandato questa nuova afflizione e me, Padre mio, che cosa si è scaricato su di voi? Immagino la vostra afflizione che deve essere grandissima, da ciò che mi si fosse rivelata potrei morirne, giusta il detto di Gesù. Intanto non so nascondervi di sentire come mie tutte le vostre angosce e di essere quasi per un cieco istinto portato a supplicare la divina pietà che comandi, che si desista dal più martirizzarvi. Ecco Padre Pio che prega il Signore per fare addirittura a sua le afflizioni del suo Padre spirituale, Padre Agostino. Ma mentre così incessantemente prego, veggo ancora con grandissima gioia del mio spirito una tale condotta del Signore verso di voi. Vi sia di salutare conforto, mio carissimo Padre, il sapere che il tutto riuscirà a gloria della sua divina maestà. La gloria del Celeste Padre sia quella che vi tenga sempre allerta per ripararvi dai colpi del nemico. Non vi abbandonate, vi prego Padre mio alle procelle di Satana perché Gesù vi fa sapere che in questa nuova lotta non permetterà affatto che il nemico tocchi il vostro spirito. Coraggio dunque, avanti! Gesù vuole con questa prova fare solo un bucatino al vostro spirito, perciò siatelene sempre grato.